Ardono le fiaccole accese nella notte di Torino. Arde nei tanti giovani presenti al corteo il desiderio di rendere omaggio ai partigiani coraggiosi, grazie ai quali ogni italiano oggi ha la possibilità di vivere in una nazione finalmente libera. Ha avuto un sapore diverso quest'anno la tradizionale fiaccolata del 24 aprile nel capoluogo piemontese. Il sapore della rivolta silenziosa, quasi il tentativo per affermare l'esistenza e la persistenza dei valori di una ideologia operaia, combattiva, militante, uscita con le elezioni dal Parlamento, ma non dal cuore di tanti uomini e donne che in quello ormai lontano 25 aprile del 1945 hanno lottato fino a mettere a repentaglio la propria vita. Io ricordo molto valentieri aver combattuto a fianco di Barbato e Petralia che abbiamo organizzato la liberazione della città di Chieri al 19 aprile 1945 per poi ritirarsi sulle colline e aspettare l'ordine al 1226x1 emanato dal comando militare generale piemontese che voleva dire di scendere, attaccare e liberare Torino così come è avvenuto. Noi siamo qui coi giovani a difendere quella data perché quella data significa la libertà e la democrazia del popolo italiano. Presenti i rappresentanti delle istituzioni locali e delle sigle sindacali, i giovani del mondo della politica, delle tante associazioni contro la mafia e tantissima gente comune che con la sua presenza ha voluto testimoniare l'importanza del 25 aprile per la coscienza nazionale. Una vera festa per non dimenticare una riflessione con la memoria rivolta al passato e lo sguardo che guarda al futuro. Il lungo serpentone ha percorso le vie del centro cittadino partendo da Piazza Arbarello ed ha infine raggiunto Piazza Castello dove la manifestazione si è conclusa con i discorsi delle autorità.